Apprendimento e attenzione. Sei più una lepre o una tartaruga? Lo sapevi che nell'attenzione ci sono varie modalità di rapportarsi a un compito. Alcuni di noi sono più lepre, cioè partono super allerta, super in fretta, riescono a partire alla grande, ma poi faticano a mantenere l'attenzione nel tempo. Si parla allora di un'attenzione sostenuta che è un po' più carente, mentre l'attenzione all'allerta è molto molto più efficace. Ma esistono anche le tartarughine. Le tartarughine sono quelle che faticano un po' a partire. Magari soprattutto quando è una cosa un po' più noiosa e quindi rimandano, trovano mille scuse. Ecco, se sei una tartaruga magari ci metti un pochino di più ad iniziare le cose, però poi quando sei nel loop dell'attenzione, la tua attenzione si mantiene molto di più nel tempo. Quindi sei più una lepre o una tartaruga? E soprattutto, hai lavorato per impostare il tuo metodo di studio seguendo il tuo modo di essere?